Non fare sconti se vuoi buoni clienti! Oggi voglio condividere con te le strategie vincenti per attrarre buoni clienti. Ma prima mi presento, sono Cassandra Di Candia, esperta di visual e marketing e dopo aver lavorato per anni con prestigiosi marchi internazionali, oggi metto la mia esperienza al servizio dei piccoli negozi che vogliono massimizzare vendite e fatturato. In questo video ti mostrerò come attrarre clienti fedeli e di qualità senza svendere i tuoi prodotti. Ecco i segreti. Numero 1. Non essere paragonabile. Se ti chiedono lo sconto è perché molto probabilmente ti stanno paragonando alla concorrenza. Offri quindi dei servizi correlati ai tuoi prodotti per non essere confrontabile. Fai la differenza con dei servizi unici che la concorrenza non offre, ad esempio personalizzazioni, consulenze o altri servizi aggiuntivi che possono renderti unico e inimitabile. Numero 2. Concentrati sull'esperienza d'acquisto. I clienti cercano esperienze e non solo prodotti. Crea quindi un ambiente accogliente e offri un servizio eccellente per farli sentire speciali e valorizzati. Numero 3. Crea promozioni mirate e in modo strategico. Quindi vai a scontare solo i prodotti fermi in magazzino, liberando lo spazio per le nuove collezioni e mantenendo alto il valore percepito dei tuoi articoli. Numero 4. Usa educazione e fermezza. L'educazione resta una potente arma per far capire al cliente che le condizioni le poni tu e non lui. Rispondi con cortesia ma anche con decisione. Spiega il valore dei tuoi prodotti, dei servizi e la qualità della tua professionalità, dimostrando che hai fiducia in ciò che offri. Salva questo reel per rivedere questi consigli e trasformare la tua strategia di vendita. E ricorda, più impari, più guadagni.